Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione, perdonatemi se parlerò piano ma dormono quindi io ho la memoria di un pesciolino rosso sperduto nei mari mediterranei quindi quella recensione la devo fare per forza adesso e parliamo di Reverse, film italiano che vi giuro mi ha fatto veramente rompere le palle letteralmente e poi ti schiafferà in faccia una dura verità che il film non è veramente così una merda perché io vi giuro ragazzi, tutto il tempo dicevo ai miei fratelli, io lo metto nella merda, io lo distruggerò ora ne parleremo diretto da questo Mauro John Capece mi sembra che ha diretto altri film, quando ho cercato Reverse mi sembra che non ho girato altro non so, fatemi sapere siete più preparati di me, certe volte anzi più delle volte mi date delle dritte bravi ragazzi e praticamente ci abbiamo come protagonista questa Corinne Coroneo e questo Adrien Liss allora c'è questo serial killer che ammazza gli influencer io questa idea l'ho avuto una volta che come ho detto una delle mie grandi passioni è stata sempre le... diciamo le cacchio delle notifiche playstation scusate praticamente siamo sempre stata la passione per i cortometraggi ne volevo fare uno io e si parla diciamo di un influencer questo poi poi lo racconterò cioè di un killer di influencer qua non è come l'avevo pensato io però ci siamo quasi super giù questo qua praticamente addesca queste ragazze soprattutto sono donne che sono influencer o donne di spettacolo o Instagram cioè i classici diciamo portali dove uno cerca di diventare famoso e lo ci diventa se sei donna soprattutto ci diventi e anche se sei diciamo non... diciamo che hai diciamo le attrattive che possono attrarre o meno gli altri uomini per seguirti niente questo qua viene preso e viene mandata questa poliziotta a cercarlo di farlo parlare nel senso lui ha detto che ha fatto i omicidi però dice che lui è pazzo e quindi ha dato l'infermità mentale siccome non è vero e la moglie non lo fa veramente pagando far andare proprio in carcere in galera dove che dovrebbe stare gli dicono tu cerca di fartelo cioè vai lì che non sei poliziotta fai finta che tu ti interessi della sua non comunità perché dove sta lì lo picchiano lo fanno e quant'altro fallo parlare fatto l'amico e così lui ti dichiarerà e prendi in America stavo se la chiamano reverse ovvero che prende fanno diciamo io mi chiedo chi è questo deficiente killer che poi diventano grandi amici dopo un'ora e gli racconta tutta la verità cioè veramente c'è esistono niente questa gente che proprio un'ora che arriva una persona del genere fa queste domande e poi cede e dice la verità non lo so mi è sembrato strano meglio per loro così almeno completano i casi niente quindi inizierà questo calvario anche nostro di vedere questi due attori ovvero questa Corinna Coroneo e Adrian Liss e se la cavicchiano sì e no certe volte fanno veramente cacare a recitare perdonatemi se gli attori non penso se vedranno mai la mia recensione ma ragazzi eh un po' dovete un po' un po' più inquietante lui l'Adrien Liss è molto più bravo di lei a fare l'inquietante e scopriremo alcune cose diciamo su cose gli piace una cosa mi ha fatto molto ridere lui che parla che questi qua gli pisciano ogni giorno questi infermieri che lo maltrattano e lui dice sarebbe bello che arriverebbe un infermiere mi pisciasse nel petto bello caldo e lui inizia diciamo a descrivere tutti i particolari del godimento se una donna ti piscia addosso e lui dice anche un po' di linguetta la uscirei per dissetarmi e io sono scoppiato a ridere cioè è stato trash sta cosa ma per voluta però è una cosa trash voluta non è si basa tutto su questi due personaggi su quelle conversazioni e su quattro stronzi che hanno messo delle telecamere e delle micro spie in tutta la stanza per cercare di registrare quando lui dichiarerà di aver fatto tutto ciò con mente fredda e non con la pazzia come lui dichiara e anche è stato diciamo scaggiornato proprio per questo nel senso che è stato mandato in questo manicomio niente ragazzi io ve lo consiglio se volete vedere un film italiano e non la classica merdata cioè il film si salva negli ultimi 30 minuti inizia diciamo a decollare il film e i colpi di scena non si fermeranno uno dopo l'altro cioè è stato veramente scritto bene io mi ero quasi pentito non dico mai quando spendo per i noleggi però mi ero quasi pentito di aver speso gli 8 euro poi ho detto boh dai se le sommere gli 8 euro bravi bisogna sostenere il cinema soprattutto con il nostro nostrano che di solito escono sminchiate stavolta dopo quella delusione che ho fatto la recensione che lascerò qua sotto di Kyo che è una cacata almeno un film italiano non horror è un drammatico thriller diciamo io lo consiglio altamente ora vorrei parlare un po' del momento spoiler io vi ringrazio sia fino a qua ragazzi veramente grazie a tutti soprattutto gli affezionati passiamo agli spoiler ragazzi iscrivete al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina come sempre e commentate fatemi sapere un po' niente andiamo a questi spoiler quindi attenzione sto parlando degli spoiler niente veniamo a sapere che alla fine è stato un reverse ma un reverse proprio nei confronti di lei perché alla fine questo qua non era veramente un killer cioè lo è veramente un killer però va a lavorare per la polizia cioè lui è un killer che lavora per la polizia per incastrare questa che poi alla fine la manderà la farà scappare perché lui non vuole che vada in galera perché lui è proprio con questo fatto di farla pagare veramente cioè con la morte non con una pacca nelle spalle dice vai in galera cioè proprio lui uccide quindi lei pensa no che questo qua no la vuole salvare pensando anche noi che non fosse lui il killer anche lui è il killer e ragazzi col finale che lei va nella tana del killer che vede in lui la collezione diciamo tutti i suoi delitti i giornali è stato veramente un colpo di genio cioè io non me lo aspettavo neanche i miei fratelli cioè veramente tanta roba qua fa capire un unico problema che mi ho detto un po' alcuni problemi in celare il film secondo me il budget quindi è girato tutto in queste cazzo distanze vi ripeto se io non è un grande film ma vi consiglio di vederlo e se ve lo dico io potete andare sicuro poi eh non se sa io vi ringrazio che siete fino a qua spero non vi ho rovinato il film spero che l'avete già visto e non vi siete visto sto coglione che ho detto gli spoiler quindi se vi va iscrivete al canale se siete nuovi commentate lasciate un mi piace lasciate un mi piace e condividete il video così per far conoscere un po' il mio canale che non si sofferma su un solo genere parla di un po' di tutti anche di film che non ne parla quasi nessuno da come vedo perché sto reverse è proprio passato inosservato per tutti youtuber io vi ringrazio ragazzi e alla prossima